Questi risultati di calcio della Serie D, Girone I, che interessa anche la nostra provincia con la presenza del Licata Calcio. A Cirriale 0, Messina ACR 1, Biancavilla 1, Marina di Ragusa 3, Castrovillari 0, San Luca 1, FC Messina 1, Cilento 0, Gelbison 3, Troina 1, Paternò 1, Licata 0, Rocella 1, Dattilo 2, Rotondo 2, Rende 1. La classifica vede al momento in testa la CR Messina con 43 punti, seguita dalla Gelbison Vallo della Lucania 39, l'FC Messina 38, la Dattilo 1980 32, la Cireale con 32 punti, Licata Calcio con 3 l'1. Questa è la classifica, la CR Messina 43, Gelbison Vallo della Lucania 39, l'FC Messina 38, Dattilo 32, la Cireale 32, Licata Calcio 31, San Luca 30, Biancavilla 27, Santa Maria Cilento 26, Rotondo Calcio 25, Paternò Calcio 25, la Città Sant'Agata 22. A finire il Castrovillari con 18 punti e il Roccella con 13 punti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.